Ciao ragazzi, per questo nuovissimo video di Bolle, io stavo facendo Crea, no? Guarda, quando ho cosa più amiche vuole, Crea. Però se sei iniziato il gioco, dovete avere almeno 5 di esperienza. Io per te sempre tengo 58, però io tra poco arrivo a 60. E posso dire cosa? Questo è l'astellino. E' 80. Vabbè, questo non ce ne importa, ma io ho detto, stavo facendo tutte le partite con Bombardino, no? Perché mi sono comprato questo Bombardino? Ed è abbastanza forte, questo vabbè, si fa gratis. Questo fa anche tutte le partite, no? Cioè, quindi io ho detto, ma perché non fare un video con Bombardino se vinco tutte le partite? Mi shoppo qualcosa? Qua, 50 euro, io con 50 euro mi comprerei questo. E poi questo, poi me lo consegnerai. Vabbè, mi shoppo questo, vabbè, mi shoppo quello, no? Mi va bene? Ok, sono, sono, non posso shoppare più per quel fatto di quella cosa che ho detto in quel link, in quel corso video, ma vecchio vecchio vecchio. Vabbè, vogliamo cominciare? Incominciamo. Vai, gioca. Allora, stavo con il proprio partito con una tecnica, non cambiare, uccidere e andare là. Allora, stavo con la tecnica, allora, queste cose, tipo uno di energia, mi dà tanta vita e poi tanto di, cioè, per cifre subito. Se arrivi, tipo, a due, tre, con un brand forte, puoi cifre tutti. Guardate, io prendo prima questi, e poi si prendo. Ok, mi stai caldando tante cose a vedere. Ecco, la cosa è più bella. Allora, la scassa cazzo. E prendo questo. Allora, la scassa cazzo. Allora, ecco, è qualche ucina, ou mi uccide. Deci, contruci una larda. Guardate, che macca. In quel momento, le prime queste cose, no i fate i geno 10. Ho detto io che questa tecnica è forte. Non mi acasca nessuna. Non si sta bene. Adesso, asta la stransione. ho visto la partita questa è la terza partita che ho giunto vedete se prima non mi avete ascoltato bene per la tecnica per la tecnica per vincere più forte e poi potremmo seguire prima queste cose e poi attaccare eh ecco ecco esco ma E' un po' di più lasciate un bel like iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto attivate la campanellina e che dirà che bella